Covid. Nell'ultimo bollettino diffuso dall'ASP Nissena, con i dati di ieri 26 maggio riguardanti l'intera provincia, si hanno 178 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in assistenza domiciliare e 155 guariti. Le città con maggiore numero di casi sono Gela con 59, Caltanissetta con 53, a San Cataldo i pazienti positivi nelle ultime 24 ore sono 18, mentre a Mazzarino 12 e 10 anni scemi. Guardando i dati del report quotidiano del Ministero della Salute sull'andamento della pandemia nell'intera Sicilia sono 2063 i positivi, 20 i decessi. La Sicilia è quindi al quarto posto per contagi in tutta Italia. Proprio stamani l'Istituto Superiore della Sanità in merito alla situazione dell'intero paese parla di ricoveri in calo, occupazione aeree mediche al 9% e sottolinea che l'incidenza scende da 375 a 261 casi ogni 100.000 abitanti e l'indice di trasmissibilità del Covid, ovvero l'RT nazionale, passa allo 0,86. Intanto si avvicina il 15 giugno, data in cui cadranno anche le ultime restrizioni.